Siamo in Valle Elvo, nell'incubatorio di Sordievolo. Con l'amico Giulio vedremo le varie fasi della spremitura, della fecondazione, dell'embrionaggio delle trote farie mediterranee. Ho trovato la strada, a trovare la strada, per te non avevano neanche gli ucciti e i cartellini, e allora ho messo anche i tuoi cartelli, hai detto metto l'incubatorio così se arriva sul posto, guarda, 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 guarda quante uova vanno. Ma le avete addormentate? Un po' di anestesia perché... Oh, ma che bravi che siete! Io dicevo a mia marito, ma sai come sono contenti? Stavo avanti, e non fai! Ma no, e che tipo di anestesia si dà queste bestine? Ho usato del penorsio tanolo. Hai capito te? Si vede che siamo dei mascheristi, è una meraviglia questa qui. No, ma fai... Vedo che sono proprio lì al limite. Siamo dei mascheristi, decidiamo anche noi quando devono fare le uova. Ma in fondo, detta così, suona male. Proviamo a girarla nell'altro senso, che invece è più giusto. Che si salvano, povere uova, povere avanotti, se no ciao! Con tutti gli aeroni che ci sono in giro, la fai. Infatti, eh! Ne ha più ne ha più, ne ha più. Ancora, ne ha ancora la batteria. Guarda che fai FFWL! Oh, boh! No, sono tutte le agroccate. Ha ben poco. Ma si, ma sono ancora mature? No, no, niente. Si. Perfetto. L'encoone matura. Niente Tanto i necchi Gli stormi Per condannarmi a morte subito Provi che ti lavi subito Faccio un po' l'acqua Cosa ti faccio? Buca un po' l'acqua Buca un po' l'acqua Poi quella roba lì Praticamente sono fecondate Le mettono a bagno nelle vasche Pian pianino gli avanotti Prima hanno il sacco vitellino Pian pianino si sviluppano Pianino gli avanotti 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 Sì, non è un certo, non è più male. Vai da poco, controlla la patella tutta poco, che buio. Preciso, non puoi? Buio, buio. Grazie a tutti. Grazie.